Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, NKDestroyer E quest'oggi continueremo la nostra avventura su Minecraft Yeah Allora Dove eravamo arrivati? Ah si Ancora la pareccia c'è Ah what the fuck Non è che vorrei trovarmi qualche creeper che mi fa saltare Oh ragazzi di merda Cos'hai? Merda Dove? Dove? Vieni qui Cos'hai? Merda Non ti vede Fatti vedere il coraggio Che cosa sta facendo Ma io non ho coraggio Adivare Ah Che che c'entra a fare botte di farla a lui Eh Uno si Ho già preso quel ferro Si lo preso Uh uh Vedo di doverlo Ok Eh Abbiamo fatto No Sì Sì Caccio Sì Eh Piccchetto L'abbiamo Ma che è Ma che è? Ma che è? Ma ecco Ma che è questa mafia E che palle Merda di avira Allora Allora Non siamo qua dentro che c'era del ferro Mamma mia che sono atletico Oddio Mi faccio paura da solo Oddio Con i baffi Eh dai Ah chi Ma che ciuccia qualcosa Ma che ciucci Mi piace ciucci Ma è un ragnetto Un ragnetto berettino Oddio Un creeper Ti pare che ancora ho capito dove sto ragno Sto cominciando a impaurire Velocemente Velocemente Prendiamo sto ferro E ce ne voliamo Viene qua E dai Scusa per la parola No Botta di sale A lui è tutta la farrazza Oh Ma guarda Oh cristo Ah 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 accaduto Ah 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 Botta di sale Oh Perché continui a fissare là L'unica Cosa che ho Quanto cacchio di ferro che c'è Beccati Sì Alla facciata vostri Ah ah Iiii Iiii Eeeh Alla qua dovevo mettere la pietra Ce l'ho pietra Sì Guarda quel creeper che è malato Si sta fumando qualche canna Aspetta prima che combiniamo il danno mettila pure qua Eh Ecco Pila Grande Mio dio Potenza Toccello Con me ne scendere No Potrei fare un piccolo pomo Aggiunta però Oh cristo no Paura Paura Oh mina Venimi a salvare Ok basta con le mie Chia oasi Alla sotto c'è il ben di dio Fermato 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 Scusate Allora Stavo per scopare là sotto Botta di sale Ma è una trappola sta cosa Mortacci a lui che Che è creato sto mondo del cavolo Scusate come io sono intelligente Chiudo tutte cose a poi gli metto sono una pettura Che sono intelligenti Non ti pare che sta fissa Botta di sale E' quello che può scavarla sotto Che Tory E' quello che sta Lo che di żyuesto Non te Non t Barb戚 Raffway Che Arctic E' bottle ok 10 merda 15 non ci dobbiamo fare tutto sto vero per questo vero che facciamo scappucca ecco sempre qua sono, oddio ok ricchefelle porca e mettilo li chiudiamo di nuovo pazienza basta cavolo pazienza un corno mortaccia lui e tutta la sua razza botta di sale ora sta botta di sale questo è quello che facciamo botta di di zuccher ok tu alberto di tutto tutto tu alberto vieni qua vieni qua c'è questa non è meglio vieni qua perchè non arriva là sotto senza perderci non fare questi studi dei pelle trovare un un po' di lana porto ma qua pecore zero cosa stinta tu porco portami della pecore cosa contesta che mi vuoi ci guardi mia madre hai giocato mia madre vabbè ancora che fa devi stare zitto devi stare zitto zitto non devi stare a dare ok 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 sta facendo notte ok ok non può essere che si sta facendo notte ok uff e ci arrivo ma com'è che quando vado sotto gli alberi diventa tutto scuro c'è una bella spade mi fai a vo ci arrivo mio dio porca miseria ma oh ho visto una ombra molto temuta enderman eccolo dio cristo guardate la sagoma bianca oddio andiamo a picchiare oddio scappa merda corri mi pare che si decide a correre sto mente catto corri vecchione porca miseria corri che quello se ci era da sicuramente si spacca le ossa una mela piga una mela vuol volo che atletico metti ah si sta mettono corri 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 eccoci qui ok all'entrame non l'abbiamo stampata ora mettiamo a fare il ferro quanto sono unici pezzi di ferro porca puttana e facciamola piena di tutto io mi faccio 3,6,7,8,2 ne mancano botta di sala a lui vabbè faccio la spadina capito non posso ma che cazzo ti fai ah ecco ok eeeh miglia jack or lantern posso fare porca puttana eh scusate ma sono molto eccitato all'idea di picchiare un bel c'è un ragno che si sta checchiando da solo sbaglio che sento che si sta per fare una sega tipo a farlo pezza tuo figlio io non ho un figlio pezza quello che avrai io non avrò un figlio pezza tuo padre ed no papà no che quello che hai visto il padre ce l'hai tipo chiama quello che ha morto il padre ah non ho qui neanche il padre tipo porca puttana che hai venuto la puttana tutta la tua razza di io te l'ho spiegato perchè sto parlando di una storiella che neanche so aspetta prima che combino tipo danno oh cristo buio tanto buio ci vuoi veloci velocizzati endergay uuuu undici sei pezzi ecco qua vabbè vabbè e che dire ragazzi qui per questo è tutto non è vero stupendo un po' vabbè vabbè e che dire ragazzi qui facciamoci questa benedetta tre armi una spadina in ferro cheee guarda che figa la spada in ferro oddio oddio poi ci facciamo una bella armatura di ferro ok ok si non ci siamo mai 1 2 3 4 5 un altro me ne serve cazzo spiegati merda a posto facciamo questa carne nel frattempo eeeh 1 2 3 4 5 perfetto e qui facciamole oddio che brutto zun zun guardalo che faio mi sembra sembra chi cazzo sembra iron man ecco iron man puttano iron man vabbè ragazzi la spadina in ferro io rientro e che dire abbiamo raccolto il ferro volevo picchiare qualcos'altro ma devo andare a maniere quindi che dirvi continuate a seguirmi e al prossimo video ciao